Sono aperte le preiscrizioni alla scuola calcio UGEN d'Agropoli, affiliata alla Juventus National Academy. Le preiscrizioni al costo di 50 euro sono rivolte a bambini dai 5 ai 12 anni, che riceveranno il kit originale Juventus Nike, comprensivo di divisa bianconera. Le attività si svolgono presso il centro sportivo Rollerball Zona Moio, Agropoli. Per informazioni 334 30 61 049. Vieni anche tu a giocare con noi!